anno nuovo problemi vecchi carenze sempre le stesse dal mese di ottobre non è cambiato nulla a viale al domoro a torre del greco il marciapiede è sempre invaso dalle erbacce e a giorni alterni anche dai rifiuti il degrado è sempre ben visibile agli automobilisti di passaggio e acquanti percorrono abitualmente la strada dalle immagini delle telecamere di tv city di questa mattina il marciapiede sul lato destro della carreggiata salendo dall'incrocio di corso vittorio emanuele è sempre impraticabile per la presenza di erbacce con cespugli camminare per i pedoni è diventato nuovamente difficoltoso un problema che si ripropone a distanza di mesi e che sembra senza soluzione visto che non si provvede a rendere decoroso il marciapiede e questa volta le responsabilità non possono ricadere sugli incivili di turno grazie grazie grazie